Cari amici, benvenuti al nostro incontro quotidiano con l'oroscopo di oggi. È un piacere avervi qui mentre esploriamo le influenze astrali che accompagneranno la vostra giornata. Preparatevi a scoprire cosa vi riserva il destino con le nostre previsioni astrologiche di oggi. Ciao Ariete. Oggi, è importante per voi guardare oltre il vostro proprio io e concedere spazio anche all'amore. Potrebbero sorgere discussioni con i vostri colleghi riguardo a ruoli e responsabilità, portandovi nuovamente ad affrontare il conflitto tra i vostri principi e la realtà pratica. La determinazione e l'energia che recupererete saranno preziose per sviluppare un programma di miglioramento fisico. I vostri bambini saranno una fonte di tenerezza e tranquillità, regalandovi sorrisi che illumineranno la vostra giornata. Una potente ondata di energia pervade la vostra esistenza, spingendovi a compiere decisioni cruciali per il vostro avvenire. Evitate affrettate scelte, piuttosto, ponderate attentamente ogni passo e seguite il vostro istinto. Le stelle promettono giornate intensamente emozionanti anche nell'ambito amoroso, con la possibilità che il vostro partner stia meditando una piacevole sorpresa. Ciao Toro. Affrontate con leggerezza i capricci del vostro partner oggi, utilizzando il vostro senso dell'umorismo e un pizzico di ironia adorabile. Fate attenzione alle distrazioni sul posto di lavoro. Fortunatamente, la vostra salute sarà robusta e avrete un'energia positiva per tutta la giornata. Inoltre, potrete contare sull'affetto della vostra famiglia in qualsiasi momento. Il lavoro di squadra assume per voi un ruolo cruciale, fornendo la giusta ispirazione per affrontare la giornata lavorativa con serenità. La comunicazione riveste un'importanza fondamentale, usate le parole con saggezza per superare situazioni complesse e prevenire malintesi, sia nell'ambito familiare che lavorativo. Nessuno, come voi, comprende appieno il potere delle parole. Ciao gemelli. Concedetevi il tempo di ascoltare la vostra voce interiore, fonte di saggi consigli per affrontare situazioni critiche. La vostra creatività e la passione che vi spinge ad oltrepassare gli schemi sono risorse preziose per il vostro benessere interiore e per sentirvi protagonisti del vostro destino. Nell'ambito amoroso, cercate di mantenere un equilibrio tra i vostri sogni e la realtà, evitando di lasciarvi trasportare da emozioni e sospiri eccessivamente intensi. Se state cercando lavoro, persistete nonostante le difficoltà apparenti, potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma alla fine raggiungerete il vostro obiettivo. Oggi, godrete di un'energia vibrante e di un'aria giovane, mantenendo un atteggiamento gioioso e senza età. Approfittate di questo momento per trascorrere del tempo leggero e rilassante con la vostra famiglia. Ciao Cancro. Non lasciatevi ingannare da momenti di passione fugace, ma cercate di mantenere la vostra calma e razionalità. Al lavoro, affronterete una situazione complessa con impegno e determinazione. Dal punto di vista fisico, vi sentirete in forma e sicuri di voi stessi. Sostenete e siate complici dei vostri figli, contribuendo a creare un'atmosfera armoniosa e positiva in casa. La vostra resilienza emerge anche dopo fasi critiche della vita. La determinazione nel gestire lavoro e affari è evidente, ma è essenziale prendervi cura di voi stessi in questa fase stressante. Seguendo l'oroscopo del giorno, dedicate del tempo al vostro benessere interiore, fungendo da guaritori di voi stessi in questa fase di tensione prolungata. Ciao Leone. In questo periodo astrologico, si prospettano numerose opportunità per il vostro sviluppo personale, offrendovi la possibilità di dimostrare la vostra resilienza. La vostra apertura a iniziative mirate a migliorare la situazione finanziaria e personale è un punto lodevole. Anche nell'ambito amoroso, siete in cerca di una connessione profonda con il vostro partner organizzare momenti speciali insieme, come un viaggio o un weekend romantico, potrebbe arricchire ulteriormente la vostra relazione. Nell'ambito sentimentale, è il momento di apprezzare ciò che avete già conquistato e di dare valore alle vostre emozioni. Un po' di pragmatismo vi aiuterà a superare alcune difficoltà sul fronte lavorativo durante la giornata. State attenti a non essere troppo ingenui. Per quanto riguarda la salute, avete un surplus di energia, quindi continuate su questa strada. Se ci sono state tensioni o discordie con alcuni membri della famiglia in passato, questo è il momento perfetto per archiviare vecchie discussioni e andare avanti. Ciao Vergine. È fondamentale pianificare accuratamente la giornata lavorativa, ma altrettanto importante è trovare spazi per dedicarsi al benessere interiore. Gli obblighi e gli impegni familiari potrebbero aver monopolizzato il vostro tempo, costringendovi a trascurare le attività che vi appassionano. È ora di recuperare il tempo perduto, magari dedicandovi ad obbi divertenti o iniziative culturali che contribuiranno al vostro equilibrio emotivo. Le dispute possono essere parte del gioco dell'amore, ma una volta risolte, preferite fare pace e siglare il trattato con un bacio. Dopo un periodo di riorganizzazione e distacco da problemi professionali, è ora di valutare concretamente ciò che deve essere fatto prima di accorgervi che la motivazione potrebbe mancare. Oggi godrete di buona salute e equilibrio mentale e fisico. Se ci sono state incomprensioni familiari in passato, ora tutto è risolto e vi sentirete più sereni e uniti che mai. Ciao bilancia. Le relazioni professionali rivestono un ruolo cruciale per voi, contribuendo alla vostra armonia con l'ambiente circostante. Lavorare in un contesto ostile può generare stress e instabilità. Potreste fare il primo passo per migliorare l'atmosfera, magari con gesti gentili. Collaborazioni significative sono in arrivo e potrebbero portare a entrate molto interessanti, quindi vale la pena investire nella costruzione di relazioni positive. Chi desidera una relazione emotivamente soddisfacente dovrà avere pazienza e lavorare sulla qualità del rapporto. Se non siete d'accordo con alcuni colleghi sul lavoro, mantenete la calma e cercate di risolvere la situazione attraverso il dialogo. Vi sentite bene con voi stessi e la vostra energia vitale vi farà sentire imbattibili. Un rapporto positivo con i vostri genitori e figli vi aiuterà a superare qualsiasi altra complicazione. Ciao scorpione. La perseveranza sarà la chiave per raggiungere i vostri obiettivi. Evitate di lasciarvi condizionare e influenzare troppo dal giudizio altrui, in modo da non mettere da parte progetti importanti per voi. Analizzate attentamente i vostri desideri futuri e rimanete determinati, secondo l'oroscopo del giorno, i risultati positivi non tarderanno ad arrivare se sarete decisi. Nell'ambito amoroso, cercate di essere costruttivi e sinceri, contribuendo così a una relazione più appagante. Presto la vostra mente e il vostro cuore saranno liberi da incertezze e tristezze, permettendovi di perseguire con determinazione i vostri obiettivi. Tuttavia, sul fronte lavorativo, dovrete mostrare più determinazione ed energia rispetto a quanto fatto recentemente. In termini di benessere, state alla grande e mostrate un atteggiamento più vitale del solito. Godetevi il conforto delle relazioni familiari, condividendolo con il vostro partner oggi e sempre. Ciao Sagittario. Invito a esplorare con mente aperta le diverse possibilità che il destino offre, senza restrizioni. In questo momento, emanate iniziative e determinazione nel perseguire gli obiettivi che avete fissato. Un viaggio o un percorso di studio potrebbero arricchire non solo il vostro bagaglio culturale, ma anche regalarvi autentici momenti di spensieratezza. In questa giornata, vi immergerete in un'atmosfera più leggera, soddisfacente e propizia alla complicità, ideale per ravvivare la passione con il vostro partner. Se le sfide professionali recenti sono stati ostacoli al vostro progresso, è ora di pianificare una strategia per riconquistare il terreno perduto. Anche se alcuni ostacoli sono stati oltre il vostro controllo, concentrarsi su soluzioni creative vi aiuterà a superarli. Se avete adottato nuove abitudini salutari, come l'attività fisica o una dieta equilibrata, i benefici sono evidenti, la vostra vitalità è alle stelle. Tuttavia, qualsiasi negatività si dissolverà quando tornerete a casa e riabbraccerete la vostra calorosa famiglia. Ciao capricorno! Nel vostro mondo sentimentale, cercate sicurezze che talvolta risultano elusive nella persona amata. La vostra ricerca si concentra sull'equilibrio interiore perfetto. Trovare la giusta combinazione tra vita privata e lavorativa è cruciale per voi affinché nessuna prevalga sull'altra. Consapevoli che raggiungere questo equilibrio non è sempre semplice, vi invito a non stressarvi quando la strada si fa complicata. Nel contesto della vostra relazione, un approccio più tenero e affettuoso potrebbe sostituire la consueta determinazione. Affrontate le sfide lavorative con una prospettiva positiva, concentrando la vostra energia sugli aspetti costruttivi. Per coloro che stanno seguendo una dieta o un nuovo regime di allenamento, i risultati cominciano a farsi notare, donandovi una sensazione di vitalità. Indipendentemente da come vanno le cose altrove, oggi potrete contare sull'aiuto prezioso della vostra famiglia per superare qualsiasi ostacolo. Ciao Acquario! Le vostre idee innovative e rivoluzionarie continuano a riscuotere apprezzamenti da chi vi circonda. Amate essere stimolati dagli altri, ma allo stesso tempo desiderate far emergere la vostra autenticità. Se una situazione non vi soddisfa più, non esitate a esprimere chiaramente le vostre opinioni e a manifestare il vostro pensiero senza difficoltà. Evitate l'isolamento e mantenete saldo il legame con il vostro partner. Fate attenzione a eventuali nuovi colleghi, poiché potrebbero non avere intenzioni positive. Questo è un periodo costruttivo per qualsiasi progetto che intraprendiate, cercate di mantenere un atteggiamento positivo fino alla fine della giornata. Infine, la famiglia rimane un punto di riferimento essenziale nella vostra vita, quindi coltivate i legami familiari. Ciao Pesci! La vostra intuizione e empatia sono attualmente i vostri punti di forza, sostenuti dalle stelle che promuovono il vostro benessere interiore. Rispetto a qualche giorno fa, vi sentite mentalmente più rilassati e lucidi. L'oroscopo del giorno indica che il vostro nutrimento interiore proviene dai rapporti umani. Per voi è essenziale che l'armonia prevalga intorno a voi e che gli altri comprendano a fondo le vostre idee e sensazioni. Dopo un periodo di conflitti, prendetevi del tempo per riflettere e chiedere perdono, sfruttando la vostra abilità unica nel farlo. Se il lavoro non sta procedendo come desiderate, persistete un po' in più a lungo. Sfruttate questo momento favorevole dal punto di vista fisico per avviare un nuovo progetto appassionante. È il momento opportuno per rafforzare i legami familiari, vivendo insieme momenti felici.